La città di Cosenza da oggi potrà avvalersi di uno tra gli strumenti più efficaci per la promozione turistica, una guida del Touring Club dal titolo Cosenza e il tesoro di Alarico, i dintorni, il mare e l'altopiano silano. Cosenza finalmente, al di là di quelle che sono stati esperimenti del passato di guide che poi non erano nel circuito nazionale e che quindi avevano scarsa accessibilità da parte dei turisti, finalmente avrà una guida vera e questo noi lo inquadriamo in un progetto complessivo di rilancio anche turistico della nostra città, del nostro centro storico, un percorso che è ingentrato per il 70% circa su Cosenza che poi offre però ai potenziali turisti e visitatori anche la possibilità di visitare luoghi da un punto di vista paesaggistico e ambientale rilevantissimi e che quindi possono costruire una valida offerta turistica. Cosenza, che finora era considerata meta di transito dei flussi turistici nazionali ed internazionali, adesso grazie al suo importante patrimonio valorizzato attraverso una sapiente operazione di marketing, guadagna la sua centralità e diventa tappa privilegiata anche per la scoperta del territorio circostante. Il turismo è non solo un patrimonio storico, architettonico, artistico, paesaggistico che esiste e è rilevantissimo nella nostra città, nella nostra provincia, ma anche è un'organizzazione del sistema, quindi è accoglienza, capacità ricettiva, logistica e marketing anche del territorio. La guida si inserisce in questo ultimo obiettivo che è appunto quello di avere comunque anche una promozione del territorio perché molti vengono qui ma non sanno neanche quali possono essere le bellezze o le situazioni, diciamo, di interesse artistico e turistico che ci sono nella nostra città, nel nostro territorio. Quindi questo è uno strumento importante che va proprio a colmare questa lacuna. La guida, già presente nel catalogo online della Touring Editore, dalla fine di febbraio sarà distribuita in tutte le librerie del territorio nazionale.